Cristo risorto, buona giornata carissimi amici! Dal sorgere del sole l'odiamo il nome del Signore, l'odiamo Dio che viene anche oggi con la Sua parola e si fa presente nella nostra vita. Apriamo i nostri cuori e accogliamo oggi il Vangelo secondo Matteo capitolo 7 dal 21 al 27 In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Amen. Accogliamo oggi il profeta Isaia, capitolo 26, versetti 1-6. In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda. Abbiamo una città forte, mura e bastioni, egli ha posto a salvezza. Aprite le porte, entri una nazione giusta che si mantiene fedele. La sua volontà è salda, tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto, ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. I piedi la calpestano, sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Amen. Carissimi, ecco allora che oggi ci viene offerto, sempre in questa prima settimana di Avvento, un Vangelo di speranza, un Vangelo che ci chiama, attraverso le parole di Gesù, a fare la volontà del Padre, ma soprattutto a costruire la nostra casa sulla roccia. Questo è l'invito di Gesù. Che la nostra casa, la nostra vita, il nostro cuore, la nostra famiglia, possa essere fondata su Gesù, che è la roccia, e non sulla sabbia. E sabbia è tutto ciò che non è Gesù, dove Lui non è presente. Oggi lo capiamo molto meglio da questo profeta Isaia. ricordo che siamo ancora in questa settimana dove abbiamo acceso la candela dei profeti e il profeta Isaia ci spinge a fare un passo, ci spinge a confidare nel Signore. dice, beata la nazione che si mantiene fedele alla parola di Dio, alla sua promessa, alla volontà del Padre. Beata la nazione che ti segue perché tuo Dio le assicurerai la pace, perché in te confida. e poi continua dicendo confidate nel Signore sempre perché il Signore è una roccia eterna. Quanto è bello, fratelli e sorelle, in questo tempo di avvento, di preparazione alla venuta del Signore Gesù in un modo nuovo nella nostra vita, quanto è bello essere incoraggiati alla speranza, poiché il mondo non ci invita a sperare, ci invita a disperare. a scoraggiarci, a non sapere com'è il futuro e a pensarlo negativo, a pensarlo peggio del presente, ad avere atteggiamenti di ansietà, di angoscia. Cosa sarà? Di domani, di dopodomani, del Natale, come lo vivremo, come lo passeremo? Ma la parola di Dio non è così. La parola di Dio ci spinge alla speranza. La parola di Dio mi dice, Luca, confida nel Signore, tu avrai la pace assicurata. Confida in Dio, la sua pace regnerà dentro di te. Confida nel Signore perché è una roccia eterna. Chi crede in Lui non vacillerà. E sapete qual è la differenza tra chi crede in Dio, in Gesù, nostro Signore, e tra chi non crede in Dio? La differenza lo ha detto Gesù stesso nella parabola che oggi ha detto della casa sulla roccia, che ci sono le stesse situazioni di turbamento atmosferico. cade la pioggia, straripano i fiumi, soffiano i venti, si abbattono su quella casa. Sia su chi crede, sia su chi non crede. Ma chi crede in Dio non vacilla, rimane stabile. Chi non confida nel Signore cave, perché la sua vita è fondata sulla sabbia. ma fratelli e sorelle, noi siamo stati creati da Dio per Lui. E il nostro cuore, come dice Sant'Agostino, finché non riposa in Dio, non è in pace. Attenzione a credere che senza Dio, senza la preghiera, senza la Sua parola, possiamo stare in piedi. Possiamo vincere le nostre battaglie. Attenzione! qui sì che ci vuole umiltà. O Dio, senza di Te non ho alcun bene, dice il Salmo. O Dio, senza di Te i miei piedi vacilleranno. Senza di Te, oh Padre, non vedo la luce. Ho bisogno di Te. Ecco allora l'invito che oggi ci fa il profeta. Confida nel Signore sempre. Lo prendiamo come slogan e ve lo ripeto. Confida nel Signore sempre. Perché Dio è con te. Perché se tu confidi in Dio, Lui oggi e per sempre ti assicurerà la pace. Prima di tutto dentro di te e poi fuori di te. Quindi oggi andiamo da Dio. Invochiamo il Suo nome. confidiamo in Lui. Lasciamo che il nostro cuore si apra alla Sua azione meravigliosa nella nostra vita. E diciamoli vieni Signore Gesù. Signore Gesù noi abbiamo bisogno di Te in questo giorno. Abbiamo bisogno di fare esperienza di Te. Esperienza che chi confida in Te non rimane deluso. Signore se dovesse piovere se dovessero abbattersi venti impetuosi sulla mia vita sulla mia casa la mia famiglia sulla mia salute Signore io confido in Te perché Tu non mi fai vacillare io ho speranza in Te Signore l'anima mia è rivolta a Te l'anima mia si eleva dal mattino a Te ti invoca ti attende io spero in Te Signore venga davvero la Tua presenza venga davvero la Tua grazia scende al Tuo Spirito Santo e mi doni una nuova unzione l'unzione di coloro che vivono in Te a Te Signore l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli ame cari amici quindi confidiamo nel Signore sempre confidiamo in Lui e non saremo delusi la Sua pace sarà sempre al nostro fianco vi invito questa sera a partecipare in diretta live streaming qui su questo canale coinonia biella alla Casa di Preghiera di Avvento il primo di una serie quindi è questa prima settimana dove parleremo della luce dei profeti parleremo di quanto è importante ascoltare i profeti che ci parlano della venuta di Gesù ma soprattutto non sarò da solo ma ci saranno i miei fratelli e sorelle consacrati della nostra comunità qui a Strona della coinonia Giovanni Battista oasi di Biella pregheremo insieme canteremo pregheremo in modo spontaneo e alla fine ci sarà un tempo dedicato alle intercessioni ovvero tutte le intenzioni di preghiera che la gente ci chiede quindi vi invito se avete delle intenzioni particolari scrivetele qui su YouTube come commento e noi le ricorderemo questa sera di solito noi le scriviamo in piccoli fogliettini li pieghiamo e li mettiamo in un cestino e poi al termine della preghiera pregheremo su di loro quindi vi invito scriveteci affinché noi possiamo pregare per voi ci vediamo questa sera in questo tempo di preghiera di lode di adorazione del Signore Gesù e con la Sua parola grazie che mi avete accolto buona giornata ci vediamo domani ciao l'anima mia in te confido a te Signore innalzo l'anima mia in te confido fammi conoscere le tue vie insegnami i tuoi sentieri guidami nella tua fedeltà e istruiscimi perché sei tu il Dio della mia salvezza a te Signore innalzo l'anima mia in te confido buono eretto è il Signore indica ai peccatori la via giusta guida i poveri secondo giustizia insieme